Alla fine di una giornata molto complicata e dura, cominciata con la manifestazione dei gilet arancioni in piazza a Roma e proseguita ancora più duramente per certi versi, ho avuto una notizia meravigliosa. Vi ricordate quel giorno in cui siamo andati a Torino per chiedere al curatore fallimentare di fare la richiesta per la cassa integrazione per l'ex OM? Vi ricordate quanto uscì mortificato quel giorno da un incontro, devo dire, molto triste sotto l'aspetto umano e tecnico e giuridico? Sono invece felice di potervi dire che quell'incontro ha dato i suoi frutti. Soprattutto i ricorsi, i reclami presentati dalla Regione Puglia, dalla città metropolitana, hanno convinto il curatore a fare questa richiesta. Devo dire che questo mi consola di tante amarezze, di tante parole purtroppo sprecate a vuoto da parte di coloro che forse non hanno seguito questa vicenda per sette anni come ho fatto io. La sto seguendo da quando ero sindaco e non ho mollato mai. Stasera, come capita nella vita, è arrivato questo piccolo premio che dedico a tutti i lavoratori dell'OM e alle loro famiglie perché gente come loro è l'orgoglio della Puglia.